Allora, Audi, Mercedes e BMW, ne avevo già parlato, qual è la migliore? Siccome che... ma sai, Volkswagen è, insomma, è più popolare, lasciamola da parte BMW l'hanno rovinata, sta faccia da Castor, che hanno fatto le ultime Mercedes è un pochino old class, Audi è più filante, Audi è più giovanile Però mi sembra un po' la... secondo me dipende dal modello Cioè l'Audi A6 è veramente iconica, a me mi fa impazzire, come linea Però se mi parli di Audi A4, l'Audi A4 è calato ultimamente Classe C, adesso Classe C e Serie 3, gli ultimi modelli Secondo me la Serie 3 è iconica, ma quelle vecchie, molto più iconica Quelle degli anni 2000, se non mi chiedere... dipende da marchio, hai capito? La Golf è iconica, però solo la Golf, hai capito? È iconica della Passat, è un po' da... anziano, allora se devo prendere la Passat Prendo Serie 3... diciamo coeva anni... ti parlo anni 2000, perché adesso a me le ultime Non piacciono, adesso forse... la Passat poi non la compra più nessuno La GLC è un bel concetto di macchina, la Mercedes ha fatto un bel prodotto Ne vendono a scatafasci, viste GLC... adesso magari te la metto in descrizione Comunque la conoscete... però per dire... andando sulla sportività, no? La Z4... la TT la fanno sì, la TT la fanno ancora Vabbè comunque TT... qui c'è Mercedes, Audi, BMW, cos'è che fa? Da qua, TT... vabbè, capito? Sono quei macchinini del cavolo Anche quelle lì erano iconiche alle vecchie Macchine familiari, ho già detto Audi effettivamente dentro ha una qualità pazzesca Dicono che anche come... tipo la Q8 è molto bella Secondo me, ecco, la Q8 per me è bellissima